Sono Londra, Parigi, Barcellona e Madrid le mete europee più gettonate per i passeggeri in transito all'aeroporto di Napoli. Secondo le stime di GESAC si regissa un incremento del 6% rispetto allo scorso anno fino al 19 agosto, con oltre 600.000 passeggeri in transito tra arrivi e partenze. I vacanzieri che dovranno transitare nello scalo di Capodichino fino alla metà di agosto si calcola che siano 140.000 per le linee nazionali e 415.000 per quelli internazionali. Consistente anche la quota dei charter, 45.000, sui quali incidono molto mete come Scharnel, Sheik, Mykonos e Spalato. Nei primi sette mesi del 2018, da gennaio a luglio, l'aeroporto internazionale di Napoli, con la guida lungimirante di Armando Brunini, ha registrato un traffico passeggeri pari a 5.528.000, più 20,5% rispetto ai primi sette mesi del 2017. Lo scalo partenopeo si attesta a livelli sempre più alti nella classifica di quelli italiani ed è ritenuto da vettori dei grandi numeri come Ryanair e EasyJet strategico. I passeggeri in transito in questi giorni potranno anche osservare gratuitamente la mostra Un viaggio nel tempo tra le vie partenze, con le immagini dell'archivio fotografico Carbone, digitalizzate grazie al contributo dell'aeroporto internazionale di Napoli.